Sono Paolo Guaschi, conservatore del Museo Cosmos. In museo è esposto un esemplare tassidermizzato di gorilla occidentale. Il gorilla è un esempio di specie minacciata dalla caccia e dalla deforestazione. Gli ecosistemi mondiali sono seriamente minacciati dallo sfruttamento delle risorse, che sta portando rapidamente al loro esaurimento. Grazie a tutti.